In due capoluoghi su tre, la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, sarà più leggera della vecchia IMU, informa la CGA di Mestre, associazione di artigiani e piccole imprese. Peccato però che Como faccia parte di quel restante 30%, ossia delle città nelle quali l'importo della Tasi sarà superiore a quello dell'IMU. L'ufficio studi dell'Associazione Veneta ha comparato l'importo che i proprietari di prima casa pagheranno quest'anno con la Tasi, con quanto versato nel 2012 per l'imposta municipale unica. Molti capoluoghi non hanno ancora deliberato le aliquote Tasi, ma dei 76 comuni per i quali è stato possibile effettuare il confronto, 49 presenteranno una Tasi inferiore alla vecchia IMU. Come detto però, i comaschi rientrano nella minoranza dei tartassati, poiché secondo i calcoli della CGA di Mestre, nel passaggio da IMU a Tasi il prelievo è cresciuto di 45 euro. Lo studio è stato effettuato sulla rendita catastale media, considerando una abitazione di categoria A2. Nel 2012 il proprietario di casa aveva versato nelle casse del comune di Como 403 euro per l'IMU. Quest'anno invece per la Tasi dovrà versarne 448, ossia 45 in più, un aumento dell'11%. Va decisamente peggio agli abitanti di Verbania che nel passaggio da IMU a Tasi devono sborsare 200 euro in più, mentre i senesi, al contrario, guadagnano 374 euro. Leggera o pesante che sia, la Tasi verrà pagata dai comaschi in due rate, 16 ottobre e 16 dicembre.